numero 5 zanzariera estensibile ideale per finestra e porta finestra con tapparella aperta misura 50 per 142 centimetri la rete è in tessuto tecnico di fibra di vetro e pvc di colore grigio con struttura in alluminio colore bianco e spazzolino è pronta all'uso ed è facile da installare è una soluzione pratica mobile e duratura va inserita direttamente nelle guide della tapparella esterna alla finestra o alla porta finestra senza intaccare o modificare la struttura esistente se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 zanzariera in telaio estensibile della marca maurer sono realizzate in doppio telaio in alluminio anodizzato naturale con spazzolino la rete è in fibra di vetro è estensibile la dimensione da chiusa è 75 centimetri di altezza e 100 di lunghezza mentre la dimensione da aperta è 75 per 193 centimetri di larghezza è già pronta all'uso bisogna solo allargarla e posizionarla bloccandola con la tapparella il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 zanzariere marca blinki estensibili fino a 132 per 50 centimetri l'installazione è sotto tapparella si applica senza forare muri o infissi la rete è in fibra di vetro mentre il telaio è realizzato in alluminio anodizzato da chiuse misurano 50 per 70 centimetri l'altezza è fissa sono di buona fattura di facile applicazione ed efficaci acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 questa zanzariera estensibile in alluminio anodizzato della marca vigor misura 50 per 40 centimetri con estensione massima fino a 92 per 40 centimetri questo tipo di zanzariere sono l'ideale per chi non vuole fare buchi nei muri infatti si infilano nelle scanalature delle tapparelle e vengono bloccate dalle stesse tutti i materiali che compongono questo prodotto sono ben realizzati nei dettagli e funzionano alla perfezione puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 questa zanzariera estensibile a due pannelli presenta un perimetro in alluminio a forma di c sui quali scorrono due pannelli si utilizzano principalmente per porte finestre di balconi o per chiudere le terrazze il perimetro in alluminio è costituito da due profili che servono a compensare eventuali fuori squadra e per installare i pannelli perfettamente orizzontali i pannelli possono scorrere a destra o sinistra indistintamente e possono essere estraibili per una facile manutenzione e lavaggio i colori disponibili del telaio sono bianco bronzo argento avorio marrone nero rosso verde tinte raffaello e tinte legno se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione grazie a tutti grazie a tutti